...diario partigiano che Foa va a dirgli, guarda che abbiamo deciso, tu fai il vice sindaco per il partito d'azione, lei si mette a niente tutta tranquilla perché la figlia come una battuta poi vede che Foa non sta ridendo per niente e a quel punto si spaventa tantissimo perché diciamo io di realtà amministrativa non so niente, in effetti è così ma si getta capofitto e si occupa di queste cose appunto fino all'autunno del 46 anche scrivendosi con un croce e dicendo è un lavoro di piccolo cavotaggio che faccio con grande fatica, amerei tanto tornare a studiare, mi chiedo però ha più senso che io riprenda uno studio che a me darebbe un enorme piacere e che leggerebbero in pochi o ha più senso che io faccia un lavoro che non mi gratifica così tanto ma che per la collettività è così utile e continuo a farlo. Comunque lei che finì il partito d'azione la manda anche come consultore nazionale a Roma, fa parte della consulta che diciamo l'assemblea che c'è prima delle elezioni del 2 giugno che affianca al governo. Questi ruoli dopo la fine del partito d'azione che si scioglie nell'autunno del 47 lascia cadere la sua partecipazione partitica diretta, continua a fare politica prima di tutto attraverso la sua attività educativa ma riprende a fare attività politica perché Ada nel 1956 e il 1956 è un anno quanto meno strano dal momento che c'è la denuncia dei crimini di Stalin al ventesimo congresso del post, dal momento che c'è l'Ungheria, i carriarmati sovietici e compagnia, Ada entrano in PC. Quando una batteria di intellettuali a partire da una soldata amica Bianca Guidetti Serra con enorme dolore esce dal PC, lei ci entra. Infatti Bianca Guidetti racconta, dice io esco e lei si incrocia sulla porta e lei le dà molta solidarietà a Bianca, l'unica del congresso provinciale che Bianca Guidetti Serra con grande dolore lascia il PC dopo i fatti di Ungheria nel silenzio totale dell'assemblea soltanto e poi dopo mi ha rientro a Dagoverti sulla porta le abbraccia e le dice così fatti coraggio e quando abbiamo detto in verità, per noi. Poi secondo me è un lavoro politico, mi interessava solo dire una parte... Grazie a tutti